Sì, penso che è stata una partita bella per noi, abbiamo fatto quello che vogliamo fare, tutto quello che abbiamo fatto tutta la settimana, quindi siamo molto felici per la partita che abbiamo fatto. Penso che la differenza l'abbiamo fatto soprattutto con il kicking game, abbiamo parlato questo in settimana di giocare in loro campo e penso che quello ha fatto la differenza oggi. Anche la difesa, soprattutto nel primo tempo, abbiamo fatto una grandissima difesa e quindi siamo molto felici anche per la difesa oggi. Sì, penso che è stata una giornata speciale, abbiamo sentito questi tifosi come hanno urlato tutta la partita e quello è bello, quello è bello di bere in Monigo, in nostra casa, quindi siamo molto felici per questo. Sì, sì, penso, come si dice un po', abbiamo lasciato il cuore dentro il campo e questo è per i tifosi che sono venuti oggi. Sì, penso che è anche una partita molto importante per noi, penso che se vogliamo andare in playoff dobbiamo vincere fuori, quindi sì, è molto importante andare là e vincere. Sappiamo che è una partita dura, ma penso che quello che abbiamo fatto le ultime tre partite possiamo andare là e vincere.